Buongiorno, benvenuti. Scusate le spalle, al quarto premio, ma girando le parole, benvenuti in questa bellissima cornice che è la nostra Villa Melna, uno dei patrimoni storici della nostra... Premio del Presidente a Camilla Ziglia, da Brescia, con il libro edito Rivelazioni d'acqua. Premia Ivan Fedini, legge la poesia, autrice. Un taglio di luna piena, il breve alone ceruleo che separa il chiarore dalle ombre. Quello è il filo del cammino dove si ferma lo sguardo e non prova. Grazie. Ok. Grazie. 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 Grazie.